Da oggi anche Ardia ha il suo sportello della Lega Consumatori. Tutti i venerdì dalle 10 alle 12 la cittadinanza ardiatina potrà recarsi nella sala Sandro Pertini per ricevere gratuitamente assistenza riguardo temi quali assicurazioni, rapporti con le banche, bollette di acqua, gas, luce, telefonia, ma anche pratiche commerciali, multe, usura bancaria, sovraindebitamento e questioni condominali. La stessa sede consigliare ha colto amministrazione ai rappresentanti della Lega Consumatori per la conferenza stampa di presentazione dello sportello rappresentando simbolicamente l'unione di intenti fra la realtà istituzionale e l'associazione. L'assessore Riccardo Iotti si è detto soddisfatto per il traguardo raggiunto e per il nuovo servizio a disposizione dei cittadini. Oggi abbiamo presentato questo nuovo servizio offerto da Lega Consumatori, un servizio totalmente gratuito per i cittadini che va appunto a sostenere quelle fasce più deboli dei consumatori che spesso non riescono a venire a capo di alcune problematiche e quindi viene offerta all'interno di questa sede una consulenza gratuita appunto dai professionisti della Lega Consumatori. Per cui è un servizio ripeto totalmente gratuito che offre dei vantaggi in più al cittadino. Noi siamo ben lieti di ospitarli nella sede comunale e mi auguro appunto che questo servizio sia profico e crea dei vantaggi per i cittadini. Ripeto, sempre per quelle fasce più deboli che spesso cercano un punto di riferimento per risolvere problematiche che potrebbero essere banali ma che vengono percepite come difficoltuose in un momento così difficile anche a livello economico. Il presidente della Lega Consumatori, Dario Ferraro, ha spiegato la necessità di concretizzare il progetto dello sportello unitamente agli obiettivi da raggiungere. Con l'apertura di questo sportello qui ad Ardea intendiamo dare sostegno a tutte le famiglie consumatori e agli utenti per le varie problematiche che possono nascere nel mondo del consumerismo dalla bolletta della luce, dai treni, Equitalia, contratti finanziari, malasanità, diritto dei famigli e quant'altro. Quindi in sostanza vuole essere un riferimento per tutte le famiglie in modo particolare in questo momento che già da anni è una crisi economica che attanaglia il nostro paese. Quindi le famiglie sono estremamente in uno stato di disagio economico ma non solo e quindi noi con questa apertura di questo sportello intendiamo poter dare assistenza in una serie infinita di problemi, assistenza rivolta alle famiglie. Il presidente Ferraro ha poi fatto il punto sui casi principali che dovrebbero portare i cittadini a rivolgersi alla Lega Consumatori, soffermandosi sulle tipologie specifiche di assistenza che saranno loro fornite. Il nostro compito principale è quello di informare, perché noi siamo dell'idea che solo quando si è informati si è possibilità di decidere. Quindi noi cerchiamo di rendere il consumatore consapevole e informato. Quindi facciamo tutto un lavoro di informazione anche con eventi sul territorio ma nel contempo assistiamo anche con i nostri legali, perché abbiamo professionisti volontari che hanno aderito al nostro progetto della Lega Consumatori e quindi assistiamo anche legalmente i nostri associati in caso di controversie legali. Ferraro si è poi rivolto direttamente ai cittadini che si trovino in situazioni di disagio esortandoli ad avvalersi dello sportello ed a fare quadrato ritrovando unione e spirito comunitario. Concretamente vogliamo dare un aiuto, un apporto a tutti coloro che stanno in uno stato di disagio non solo economico. Noi intendiamo sul territorio creare una comunità, un'associazione è di tutti. L'associazione non è né del Presidente né del Vicepresidente, l'associazione è di tutti quelli che ne fanno parte. Quindi noi faccio un accorato appello a tutti quanti di iscriversi alla Lega Consumatori, di far parte della Lega Consumatori, di avere una partecipazione attiva in modo tale anche da promuovere una politica sociale sul territorio, un'integrazione e quindi ci rivolgiamo a tutti quanti con la speranza di poter svolgere un compito sociale sul territorio.